Buongiorno da Campobasso, qui c'è Antonio Caffapietro, qui a Campobasso dove c'è molta neve, i venti mezzi stanno pulendo qui la neve, intanto il singolo di Bartolomeo ha chiuso per il momento le scuole fino a giovedì, ma non esclude la chiusura fino a sabato, sentiamolo in questa intervista. Signor Di Bartolomeo, perché ha chiuso le scuole fino a giovedì per il momento? Tutto chiuso, tutto chiuso, ho deciso di chiudere tutto, perché non ci capivo più niente, non ci capivo più niente e allora ho deciso che tutti quanti dovessero stare a caldo, perché è una situazione, come vedete, insostenibile, ho fatto tutto, ho fatto tutto quello che dovevo fare, sono arrivato e non ce la faccio più, anch'io andando al comune sono scivolato e mi hanno dovuto raccogliere gli assessori di peso e allora ho deciso, chiudiamo tutto, non è possibile, non è possibile andare avanti così con tutta questa neve che ci circonda. Signor Di Bartolomeo, quali sono, che cosa vorrà ancora fare per pulire Campobasso da questa neve? E che devo fare più? Sto facendo tutto, tutto il possibile ed immaginabile, io non ce la faccio più, sono sfiduciato e non potevo non chiudere le scuole, perché ogni volta che io nevo, poi il giorno dopo devo fare un'altra ordinanza e allora ho deciso, chiudo tutto, chiudo le scuole e le chiudo se è possibile, se non mi dicono niente, le chiudo fino a sabato. Un appello ai cittadini per questa neve? Stetevi a casa, statevi a casa, appicciatevi a scaldi e state belle, col culo a caldo. Grazie sindaco di Bartolomeo, adesso noi finiamo qui e andiamo ai prossimi aggiornamenti per l'ultima ora, arrivederci. Buonanotte. Grazie. Grazie.